Provo a continuare su questa falsa riga la riflessione che a sua volta ha continuato Abo in merito ai pubblici, facendola precipitare sul contesto specifico di Venezia. Allora, noi quando abbiamo nel 2007 occupato il sale non pensavamo ai pubblici, pensavamo però a qualcosa di connesso, cioè pensavamo a come si chiedevamo, come si dispiega su Venezia il dispositivo della città creativa, della Creative City e che ruolo ha l'economia dell'evento all'interno di questo dispositivo peculiare veneziano della Creative City. Venezia evidente non è Londra, come Milano non è Londra, cioè a Venezia la gentrificazione non può essere descritta tramite quei processi che poi hanno contribuito proprio dal punto di vista anche teorico a definire che cos'è la Creative City. Non ci sono i Docklands, come nella Londra degli anni 80, che subiscono quel tipo di gentrificazione in cui arrivano gli artisti, poi attraverso una commessa pubblica di Urban Regeneration si crea tutto un dispositivo appunto di gentrificazione, un processo di gentrificazione eccetera. Ci chiedevamo cosa succedesse nella città in cui vivevamo e lavoravamo. Naturalmente a Venezia l'economia dell'evento significa principalmente biennale, non solo quello ma principalmente biennale e lì è evidente come la Creative City come dispositivo di gentrificazione funziona anche a Venezia. Venezia durante la biennale, tutti lo sappiamo, si trasforma davvero in una città esposizione. Venezia credo che abbia un'estensione paragonabile forse a un quartiere di Milano. L'anno scorso, seguendo una tendenza che è regolare di anno in anno, erano aumentate rispetto all'anno precedente, all'edizione precedente, parlo della biennale artivisive, sia le partecipazioni nazionali che erano arrivate a 88 sia gli eventi collaterali che erano arrivati mi pare a essere 43. Quindi oltre ai giardini e oltre all'arsenale, che sono le sedi principali dell'esposizione, c'erano oltre 140 mostre ed eventi permanenti sui sei mesi dispersi nella città. Un vero e proprio sprawl dell'evento biennale. Probabilmente questa tendenza all'aumento si confermerà anche nelle prossime edizioni. In questo fenomeno noi siamo riusciti a scorgere quello che Matteo Pasquinelli in un suo saggio di alcuni anni fa descriveva con una frase molto suggestiva, cioè diceva nel dispositivo della Creative City oggi si ribalta l'assunto dei situazionisti, l'assunto debordiano. Non c'è più il capitale a un tale grado di accumulazione da diventare immagine, ma c'è lo spettacolo ad un tale grado di accumulazione da trasformarsi in uno skyline di cemento. Cioè al cuore dell'economia immateriale, dell'industria culturali, dell'economia creativa, c'è un parassita materiale che si materializza poi appunto nelle speculazioni edilizie, eccetera. A Venezia evidentemente non c'è questa produzione, questa proliferazione dei cantieri durante la biennale. Ma cosa succede? Dov'è che si vede il link, e qui il punto chiave, tra economia dell'evento, quindi arte e rendita? Si vede nel business degli affitti per questi eventi collaterali. Un giornale locale calcolava che nell'edizione di Biennale Arte dell'anno scorso il solo business degli affitti, quindi non tutto l'indotto, una parte dell'indotto della biennale, quello relativo agli affitti di sedi alternative, si misurasse in 25 milioni di euro. Capite quindi la sproporzione tra una capacità di produzione di valore sulla rendita, cioè quindi la capacità di estrazione che ha questo tipo di economia dell'evento, del capitale simbolico collettivo di Venezia, la sproporzione tra questa quantità di valore e il funzionamento stesso di quell'evento che come tutti i grandi eventi, e in particolare quelli legati alle industrie culturali, si basa sulla dequalificazione, la precarizzazione, il sistema degli stage, degli intercitti, dei mediatori culturali, si capisce immediatamente qual è l'aberrazione di questo valore che viene di fatto privatizzato, che di fatto rientra nelle tasche dei proprietari immobiliari della città, pubblici o privati che siano, mentre un giovane lavoratore o semplicemente una persona che vive a Venezia fa fatica a pagarsi un affitto di una stanza ed è costretto a lavorare in condizioni spesso pessime, se non in nero, proprio dentro questa economia dell'evento, che ripeto non è solo la biennale, ma mi fermo a questo esempio. Allora, il sale era, ed è, un primo tentativo di rispondere a questa esigenza. Come si rompe? Come si va a spezzare questo link perverso tra economia dell'evento, ma diciamo arte, tra cultura e rendite immobiliare? Come facciamo? Abbiamo iniziato nel 2007 occupando un posto, riappropriandocene, eccetera. Abbiamo fatto un altro esperimento abbastanza, tra l'altro, pericoloso, però abbiamo voluto farlo. Nel 2010 noi abbiamo ospitato al sale un evento collaterale ufficiale della biennale, che era il padignone catalano in quel caso, ma abbiamo fatto un'operazione pubblica, come dire, di produzione di un modello altro di padiglione, di evento collaterale, che avesse determinate caratteristiche che, secondo noi, rovesciavano radicalmente il meccanismo che ha appena descritto. Cioè, con i fondi che questo committente pubblico di Barcellona ci ha dato, noi abbiamo intanto chiesto che lo spazio fosse, diciamo, suddiviso. Una parte per la mostra che loro volevano portare a Venezia e una parte gestita totalmente dal sale, che ha proposto con quei fondi lì un programma di sei mesi di seminari che avevano allora come tema la crisi e i beni comuni, con quei fondi siamo riusciti a chiamare relatori, diciamo, dalla Cina, dagli Stati Uniti, eccetera, dando una serie di seminari, ovviamente, completamente gratuita, fruibile, dalla città su dei temi di interesse critico. L'altro aspetto era quello della qualità del lavoro all'interno di quel padiglione. la media di un cosiddetto guardia sala, la media dello stipendio di un cosiddetto guardia sala alla Biennale di Venezia è di circa, diciamo, 4 euro l'ora. Molto spesso in nero, quindi molto spesso queste funzioni non vengono neanche retribuite e poi ovviamente la persona deve essere giovane, carina, laureata, parlare alcune lingue, eccetera. Noi abbiamo preteso del committente che le persone che venivano impiegate all'interno del padiglione fossero pagate, in quel caso lì era 8 euro e mezzo netti l'ora, diciamo, quindi più del doppio di quello che era la retribuzione media. È stato un esperimento, non l'abbiamo replicato, probabilmente se avessimo, se si fosse in qualche modo generalizzata questa attitudine, probabilmente la Biennale ne sarebbe stata rivoluzionata, proprio nel suo carattere profondo di privatizzazione del valore che viene prodotto. Ma questo è un aspetto, quindi diciamo questo poteva essere l'aspetto del modello alternativo. L'altro era ovviamente quello del blocco di questo evento, del blocco fisico proprio, della contrapposizione, dell'azione diretta. Abbiamo tentato diversi anni e tenteremo ancora di fargli, questi blocchi proprio dell'inaugurazione, questi blitz, eccetera. Ci siamo connessi, per esempio, ai lavoratori di quell'evento, ma diciamo che per tutte le questioni che non sto a ripetere, che abbiamo discusso in questi due giorni, sono tutti stati, diciamo, dei successi, tra virgolette, parziali o estemporanei. Allora, ripeto, la domanda importante che esce da qui, e io spero che questo sia l'inizio di una riflessione, è provare a capire anche dal punto di vista del blocco materiale, dei flussi materiali della città durante questi eventi. Non può essere forse più produttivo pensare ad organizzarci come pubblici e non come lavoratori. Questa è la sfida. Ovviamente dovremmo pensare delle tecniche, delle modalità, delle azioni. Ed è importante, secondo me, e non oziosa, la discussione di questi due giorni, perché per arrivare a mettere in pratica un'ipotesi di questo tipo, perché se poi non viene messo in pratica serve a poco, è importante capire con maggior precisione possibile qual è la misura del valore prodotto dai pubblici nel corso di questi eventi. Chiudo con un'osservazione più di carattere, se vogliamo, artistico. Visto che sono stati citati, alcuni, è stato citato Duchamp, e altri artisti, altri esempi presi dalla storia dell'arte. Se noi ci chiediamo, i pubblici hanno davvero un ruolo di produzione del valore all'interno dell'economia dell'evento? Io credo che non solo guardando alla macro dimensione dell'economia dell'evento, ma anche guardando all'opera d'arte, noi possiamo avere una conferma di questo. Cioè, pensavo, che cos'altro sono le estetiche relazionali se non la teorizzazione che i pubblici sono il medium principale dell'opera d'arte? E questo però in un modo nuovo rispetto al passato. Certo, i pubblici sono decine e decine di anni, che gli artisti, le avanguardie, inseriscono i pubblici come elemento della produzione dell'opera. Però, se ci pensiamo, anche negli anni Sessanta, Allan Capro, l'happening, eccetera, ma l'happening ovviamente aveva bisogno dei pubblici, però era unhappening, era un'opera in cui qualcosa doveva accadere, in cui questi pubblici facevano qualcosa. I pranzi di tiravanigia sono qualcosa in cui non serve che i pubblici facciano nulla. È la mera presenza del pubblico che produce il valore di quell'opera lì, ma davvero la mera presenza. Anzi, meno fanno, meglio è. C'è una cucina, tu cucini, chiacchieri, quello devi fare. Non c'è nulla che accade, non c'è più qualcosa di inaspettato, non c'è più quell'aspetto di creazione, che poi possiamo discutere se fosse o meno imbrigliato dentro dei dispositivi di valorizzazione capitalistica, bla bla bla. Però non c'è più quell'accento sulla creazione che invece era l'accento che davano i situazionisti, che sono stati citati, o che dava flux, o su cui insisteva lo stesso capro, eccetera. Quindi io credo che un ulteriore conferma della centralità dei pubblici ce la dà non solo la sociologia o l'inchiesta militante o la conricerca, ma ce la dà anche uno sguardo critico sulla conformazione e su quale è stato il dibattito egemone nella critica d'arte dalla metà degli anni 90 per poi una decina d'anni a venire. Quindi queste cose. grazie. Grazie. Grazie.